Salve a proprio youtube, sono io Alberto Neogeo, faccio un video così al volo per rispondere a un altro video che ho visto appena finito di vedere Un video di un certo ragazzo, un certo youtuber che si chiama, scusate se lo leggo perché non me lo sono imparato a memoria Slow Hey, il titolo, il video si chiama I giochi LucasArts non sono capolavori Boom! Allora, per chi mi conosce sa che io sono un appassionato di avventure punte clicca, sulle avventure su diciamo il canale Shion Non ne parlo spesso ma ne ho parlato tantissimo in tutti questi anni perché sono stato membro del cast di Calavera Caffè Per tantissimo tempo, adesso ho omilito solamente il canale Telegram sul quale poi dopo mi hanno segnalato questo video Quindi sono andato a vederlo sulla loro segnalazione dei ragazzi del canale Telegram di Calavera Caffè E niente, quindi da appassionato di avventure punte clicca anche diciamo di lunga data Quindi ho anche un'età che mi permette anche di essere diciamo di definirmi insomma un appassionato con una certa diciamo esperienza in avventure punte clicca Questo video mi ha incuriosito veramente tantissimo iniziare dal titolo un po' diciamo anche un po' ma forse magari un po' provocatorio Allora, il ragazzo, scusami se ti chiamo così, spero di non offenderti, anzi da ora in poi userà anche la seconda persona singolare Ma non per niente, non per offendere, anzi assolutamente no, anzi per avere diciamo anche un contatto diretto, una risposta diretta a questo tipo di video Che secondo me è molto molto interessante Beh diciamo che il ragazzo, Slow Hey, dice proprio questo, parla con questa, parte con questa premessa I giochi, le giochi punte clicca dell'avventura del LucasArts non sono capolavori, in che senso? Allora, già la definizione che da lui di capolavoro è questa, semplicemente di un'opera che è perfettamente formale sotto ogni suo aspetto Cioè ogni suo aspetto è formalmente perfetto e quindi è completamente privo di difetti Allora, possiamo già discutere un po' su questo tipo di definizione ma diamola per buona, non è questo quello che mi interessa E quindi lui, considerando che si può definire un capolavoro solamente un gioco che ha tutti i suoi aspetti diciamo che rasentano la perfezione Le avventure punte clicca del LucasArts non mi sembrano, non mi sembra che siano completamente o comunque possono essere definite e rientrare in questa definizione Il ragazzo, scusa se ti chiamo ragazzo, ma Slow Hey, dice che lui è un appassionato di puzzle game È appassionato anche di tutti quei giochi che declinano il puzzle game in una, diciamo, una veste narrativa e quindi gli piacciono molto anche le avventure punte clicca Da quanto intuisco, lui ha giocato molto le avventure punte clicca, diciamo, più recenti o più contemporanee E le avventure Lucas non le ha giocate all'epoca, forse perché anche per questioni anagrafiche, insomma, non gli sono capitate quando era, diciamo, più giovane o più piccolo E quindi dice questo, allora io sono, siccome tutti mi hanno detto sempre che, questo è quello che dice lui Mi hanno detto sempre che le avventure Lucas sono perfette, sono dei capolavori, sono stupende e me ne sono recuperate tutte o comunque molte E però devo dire che una volta giocate, provate a termine, non mi sono poi piaciute così tanto Cioè sì, mi sono piaciute perché comunque sono molto belle, ma non sono così perfette come mi aspettavo E quindi poi dopo inizia a parlare, a fare degli esempi Ovviamente fa, diciamo, una premessa Dice una cosa però molto molto importante, secondo me, è che lo status di capolavoro di queste avventure Molto probabilmente è dovuto da questioni nostalgiche, più che da questioni tecniche E quindi lui dice, inizia a smontare, diciamo, questo fatto di considerare le avventure punte clicca De Alucasar, quindi lui parla soprattutto di Monkey Island, Loom, Full Throttle, Green Fandango, SM Max Smontiamo il fatto che siano capolavori, non è vero, ci sono un sacco di difetti E inizia a, diciamo, definirli Poi ovviamente alla fine video fa un riconoscimento Dice però in realtà questo non vuol dire che i giochi fanciano schifo I giochi sono comunque molto belli, mi sono piaciuti Però ci ho trovato, diciamo, delle cose che non mi hanno, diciamo, entusiasmato più di tanto Che secondo me sono dei difetti molto molto grossi Allora, io non... ok Detto questo, diciamo, adesso vorrei entrare un po', diciamo, nel particolare di quello che dice Un po' no, nel senso che non voglio prendere singolarmente ogni singolo solo, diciamo, appunto che fa E smontarglielo, assolutamente no Anzi, devo iniziare a dire che per me è importante comunque avere un video del genere Perché è proprio il punto di vista di un giocatore che è appassionato di un genere E però guarda, diciamo, al passato con un occhio diverso rispetto a quello che può fare uno un pochino più vecchio come me Che con quei giochi magari ci è cresciuto Anche se devo dire che io, in realtà, il mio approccio con l'avventura di punto di clicca è un po' particolare Un po' diverso rispetto a quello di molti altri appassionati Però lasciamo stare Allora, detto questo, devo dire una cosa a Slow Hey Allora, prima di tutto Secondo me, fai un piccolo, diciamo, c'è un piccolo, diciamo, una piccola fallacia nel tuo approccio a questo tipo di giochi Prima di tutto, se tu parli di giochi del passato Questo in realtà un po' lo dici, però secondo me questo va andato a, diciamo, inquinare un po' anche la tua analisi Se tu vai a parlare del gioco del passato, non puoi guardare un gioco del passato con gli occhi della contemporaneità Se tu giochi a un gioco del 90, dell'89, dell'87, del 95 Devi sapere che giochi c'erano o come erano i videogiochi nel 90, dell'87, del 95 Ora, non è che dico che tutti gli appassionati debbano per forza essere storici o filologici O che so io Uno semplicemente vuole giocare a un videogioco, lo gioca e si diverte semplicemente Però il problema è che se andiamo a, diciamo, andare a smontare lo status di capolavoro Di un gioco che è sempre stato considerato un po' capolavoro Devi però anche capire qual è il contesto in cui quel videogioco è nato Allora, tu dici logicamente che, vabbè, sì, è vero, sono giochi pionieristiche Quindi mi rendo conto che sto smontando dei giochi che sono pionieristici E quindi il genere ancora non era formato Sì, però il problema è che è questa, diciamo, una cosa centrale Logicamente nel 90, nell'87, ancora meno nell'87, nel 95 Non esistevano i manuali di game design O almeno se esistevano non erano quelli di cui siamo abituati oggi Oggi abbiamo, diciamo, siamo abituati, diciamo, a una costruzione dei giochi A, diciamo, a delle imprese, a dei studi di sviluppo Che per fare un videogioco impiegano delle risorse molto, molto importanti All'epoca non c'erano studi, non c'erano, diciamo, scuole Gli sviluppatori, e questo è valido fin dall'inizio degli anni 80 Ma anche per gran parte degli anni 90 Che è quando l'industria ha iniziato a essere molto evoluta Non c'erano, diciamo, delle strutture E quindi non c'era, diciamo, un manuale per fare le avventure punte clicca Ron Gilbert, già nell'87, o comunque giù di lì, adesso non mi ricordo di preciso Ha scritto, diciamo, una sorta di manuale, uno scritto di lista Di tutte quelle cose del quale le avventure grafiche dell'epoca Secondo lui erano, diciamo, dei difetti delle avventure grafiche dell'epoca E lui ha tentato in un certo senso da lì per partire a fare un nuovo, diciamo, delle nuove avventure Che non avessero quei difetti lì, e da lì è nato sicuramente Monkey Island Logicamente non è nato qualcosa di perfetto Lo sappiamo e lo sai bene anche tu Però in realtà è stato uno di, diciamo, non dico uno dei primi Ma, insomma, un tentativo di, diciamo, ufficializzare Creare, diciamo, delle regole con cui creare, fare questo tipo di giochi Quindi, se tu vai a vedere, perché tu hai giocato a Monkey Island Ma hai giocato agli altri giochi che sono usciti nel 90 Cioè, gli altri giochi che sono usciti in quell'epoca lì Sei in grado di dire quali altri giochi in quell'epoca potessero essere migliori, peggiori O avessero delle meccaniche che erano rifinite rispetto a Monkey Island Non c'erano, o comunque, se c'erano, avevano comunque altri difetti da altre parti Quindi diciamo che la definizione di capolavoro, in questo caso, non può per forza Soprattutto poi quando si parla di videogiochi e solo videogiochi del passato Non può essere, diciamo, legata a questa rigida, formale, diciamo, concezione della perfezione in tutto e per tutto Perché, ovviamente, tutto è perfetto, può essere perfetto, può essere, diciamo, ottimale A seconda dell'epoca in cui è uscito E quindi tutte quelle meccaniche che tu non hai apprezzato E ci sta anche che tu non abbia apprezzato, non dico di no Erano dovute anche, diciamo, un modo di concepire l'avventura a punto e clicca Che era proprio di quell'epoca lì E quindi, logicamente, se non ci sei stato dentro Se arrivi da oggi in cui sei abituato a delle meccaniche molto più rifinite E vai a vedere queste cose qui Logicamente ti ritrovi un pochettino spaesato E quindi, secondo me, c'è questo tipo di carenza Da questo, tua carenza da questo punto di vista Poi, per carità, è giustissimo Tutti gli appunti che fai sono giustissimi Perché effettivamente vai a tirare fuori, diciamo Delle strutture che sono un pochino particolari Le avventure di Luca sono strane stravaganti E seguendo questa stravaganza c'era una sorta di logica laterale Che ti portava, diciamo, a dover capire quali erano le soluzioni Per arrivare a un certo punto di vista Allora, questo mi fa capire quali sono i tuoi gusti, logicamente Anche perché, alla fine del video, mi dici anche che L'avventura preferita di quelle che hai giocato è sicuramente The Dig E secondo me non è un caso Perché The Dig, effettivamente, tutta la produzione di Luca Sart È l'avventura, quella con la trama un pochettino più matura Da un punto di vista Un pochettino più, diciamo, più seriosa Ecco, rispetto a tante altre avventure Luca Sart Che sono, diciamo, molto più ridanciane Molto più commedie Conta che negli anni 90 esistono avventure Anche molto più serie di quelle delle avventure Luca Sart Avventure anche molto più stupide Però, insomma, in ogni caso Capisco dove vuoi andare a dire Cioè, tu preferisci avere, diciamo Un filologico che sia, diciamo, più Che regoli, in un certo senso La progressione degli enigmi E non siano gli enigmi a prendere, diciamo, il sopravvento sulla trama E quindi a questo punto non ti piacciono molto, diciamo, quei giochi Che, diciamo, danno quella demenzialità O quella, diciamo, logica laterale Sul quale sono basati molto i giochi Luca Sart Come ti dicevo prima È un punto di vista molto interessante Perché effettivamente è un punto di vista Che, secondo me, è anche condivisibile Anche ad una persona come me Che c'è cresciuta con questi giochi Però è anche da dire, come dicevo prima Devi anche capire Quali erano i tempi Quali erano, diciamo, le modalità Con cui venivano fatti i giochi A quell'epoca Seconda cosa E questa cosa mi ha un po' stupito Tu dici di essere uno che A cui piace tantissimo giocare I giochi che ti costringono a prendere appunti Anch'io sono così Anche a me piacciono tantissimo Mi è piaciuto Air Story Mi è piaciuto Obradim Obradim, vabbè, insomma, è stato un po' Il retorno dell'Obradim è stato un po' Un po' un po' travagliato per me Però, insomma, mi piacciono tantissimo i giochi dove prendi Quare, insomma Giochi dove prendi appunti Insomma, mi piace tantissimo Mi ha stupito però il fatto che Essendo tu una persona così attenta Che prendi appunti per qualsiasi cosa Ti sia perso in molte avventure Luca Sart Perché è vero In molte avventure Luca Sart Viene detto Mi dici che Gli indizi per capire Diciamo la risoluzione di alcuni enigmi Non sono chiari Non sono lampanti Non ci sono subito È vero Però in realtà Se uno sta attento Se prendi appunti Alla fine ci arriva a capirlo Io Zedig All'epoca L'ho giocato tutto Senza soluzione Vedendo il tuo video Sembra che sia impossibile giocarlo Senza soluzione In realtà Non ti posso assicurare Che non è vero Perché io l'ho giocato E l'ho finito Senza usare soluzione All'epoca E quindi diciamo Con un po' di pazienza Con un po' di dedizione Si può fare Logicamente Richiede ovviamente Una forma mentis Particolare Che non è Diciamo Obbligatorio avere Non è che tutti Gli appassionati Di avventure Punta click Devono essere per forza Appassionati di mist O devono essere per forza Appassionati Degli enigmi Di Zedig E quindi ci sta Ci sta anche Ci sta anche questo Però devi capire anche Che non è Non è neanche vero Che Quella struttura Lì Non ti porta Poi a capire Qual è il meccanismo Di alcuni enigmi Perché in realtà Non è vero Alcuni si riescono A capire Poi in realtà Ci sono cose Che anch'io Ho detestato tantissimo Ad esempio Green Fandango Che è un'avventura Che io adoro Una delle mie preferite Ma ci sono delle sezioni Che sono terribili Tipo quella del cartello Che devi piantare Per avere Insomma Il cartellino Che va Che darti la direzione Dicendo Quella è una cosa assurda Che se effettivamente È un grosso difetto Del gioco Altra cosa Ecco Poi è una cosa Che Ah Loom Cavolo Mi sono scordato Di dirti questa cosa Loom Porca boia Vero Che loom Ha tutte queste Diciamo Queste soluzioni Un po' Particolari Astruse Dicendo Ma renditi conto di una cosa Loom è nato Per essere Un'avventura Testuale Le avventure testuali Avevano questo tipo Di meccaniche Era normale E traslare Diciamo Quello tipo di meccaniche Su un'avventura grafica Era una cosa Alquanto geniale Quindi Perché alla fine Poi Si Questi giochi Venivano considerati Poi Capolavori Perché Effettivamente Avevano una concezione Artistica dietro Che era molto Molto avanti Anche per l'epoca In cui Erano usciti E quindi E' anche questo Che è dovuto Diciamo Lo status Di capolavoro Il status Di capolavoro Non è per forza La cosa Che è la perfezione Formale Sempre e comunque E' anche derivata Da questo tipo Di cose Sto finendo Concludo Con dire Un'altra cosa Che Ok Ti ho fatto un po' Di appunti Un appunto Che ti faccio Se Vai a recuperare Un gioco del passato Occhio alle versioni Che giochi Perché Se è andato a criticare L'interfaccia Che attenzione L'interfaccia Anche lì Lì ancora di più Bisogna stare attenti Perché L'interfaccia È proprio specchio Dell'epoca Avere un'interfaccia In cui non Nell'epoca È una cosa L'interfaccia Diciamo Bella pulita Funzionale L'abbiamo avuta Solamente Da un certo punto Di vista In poi Nella storia Delle avventure Grafiche Attorno al 96 Più o meno Quando è arrivato Brokers World Diciamo Più o meno E quindi Lamentarsi Della struttura Delle 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 Interfaccia Insomma Non è sempre Una cosa È una cosa Un po' Criticabile Opinabile Diciamo Però in più Tu hai fatto Delle Diciamo Delle osservazioni Delle meccaniche Che sono state Introdotte Successivamente Ad esempio Parli Della Versione Remastered Di Monkey Island 1 Quando in realtà Se tu vuoi capire Cos'era Monkey Island Devi giocare Almeno la versione VGA E non la versione Remastered Perché Quella va a scombinare Completamente L'interfaccia Stessa cosa Green Fandango Green Fandango Non è uscito Con l'interfaccia Punte Clicca È uscito Con Per capirlo Quella Punte Clicca È stata un'aggiunta Della versione Remastered Il gioco Va giocato Con i tasti Della tastiera Perché è pensato Per Diciamo Gestire Gli spazi 3D Quindi non puoi Andarmi a criticare La gestione Degli spazi 3D Se giochi Col punto e clicca Occhio Perché il gioco Era stato pensato Per essere Usato Con I comandi Da tastiera Diretti Quindi è Diciamo Un'esperienza Un po' diversa E in più Infine E concludo Mi raccomando Non giocare mai Alla versione NES Di Maniac Mansion Perché non è Maniac Mansion La versione NES Di Maniac Mansion È anche lì Un rimaneggiamento Maniac Mansion Se vuoi capire Veramente il gioco Doresti giocare Per essere pignoli Alla versione Commodore 64 Capisco che non è Proprio il massimo Ma almeno si può provare Almeno allora La versione DOS Che comunque è già Inclusa dentro A The Dead of the Tentacle E lì Magari forse Hai un'idea migliore Di quella che può essere Maniac Mansion Che non è La versione NES Mi raccomando La versione NES Di Maniac Mansion È come se non esistesse Mi raccomando Va bene Io ho detto questa cosa Ho fatto questo video Di risposta Non per critica Mi raccomando Non è assolutamente critica Non è polemica Non è niente È semplicemente Una risposta Che ho voluto dare A questo video Che ripeto Per me è stato Molto molto interessante E molto molto illuminante Perché Come dici giustamente tu L'effetto nostalgia Altra tantissimo I pareri della gente È vero Me ne rendo conto Molte Diciamo Delle Diciamo Delle opinioni Che anch'io stesso ho Su giochi Diciamo vecchi Sono dettati Dalla Dalla nostalgia È vero E Riuscire a superare La nostalgia E vedere Con gli occhi Diciamo Diciamo Più Più obiettivi Qualcosa Che partiene al nostro passato Non è facile Non è roba di tutti Il tuo video Comunque È un ottimo Punto di vista Per quanto riguarda Le avventure Punto e clic Della Lucas Il mio consiglio A te Slow Hey Scusami se ti ho dato Del tu Se ti ho parlato direttamente Però Lo vorrei fare Come se fossimo Diciamo qui In un certo senso A parlare Io e te Quello che Il consiglio Che ti do È Di non fermarti Poi all'avventure Lucas Vai a vedere Vai a esplorare Trova qualche altro gioco Molto particolare Gli anni 90 E guarda un po' Quale Che cosa Cosa potresti trovare Di interessante Perché di interessante C'è molta roba Logicamente Perfezioni formali Non aspettartene Perché ce ne sono Veramente poche E soprattutto Non giocare I giochi della Sierra Soprattutto quelli Anni 80 Perché se hai trovato Diciamo Disorientanti La Moon Logic Disorientanti La Moon Logic Dei giochi Lucas Quelli della Sierra Oddio Sono molto Molto peggio Però ti devo dire una cosa E con questo concludo Definitivamente Io stesso Sono un appassionante Di avventure Ponte Clicca Che non ha sempre avuto L'effetto nostalgia Sulla schiena Perché le avventure Ponte Clicca Le ho giocate Molto tardi Nella mia vita Le sono andate A recuperare In un secondo momento Io mi sono messo A giocare Le avventure Appunto Sierra Negli anni Alla fine degli anni 90 Sono addirittura Negli anni 2000 E mi sono piaciute tantissimo Le avventure Sierra Della Le avventure Sierra Degli anni 80 Sono una roba terribile Sono veramente Una Diciamo Una sfrangata Nei cosiddetti Ma a me Sono piaciute tantissimo Perché sono Diciamo In un certo senso Riuscito ad andare Oltre Diciamo Quelle che sono I difetti Che potrebbero avere oggi Insomma Tutte quelle Diciamo cose Che rendono il gioco Veramente molto difficile Da digerire oggi Però insomma Alla fine Sono riuscito a capire Qual è il loro fascino In realtà Anche tu l'hai detto Anche tu Sei riuscito a capire Qual è il fascino Di questi giochi Quindi per carità Non voglio dire niente Il tuo video è stato Molto illuminante È stato molto importante Però Conta che Quando vai a parlare Di giochi del passato Devi tenere presente Diverse cose Grazie a tutti Per avermi ascoltato Scusate per questo video Molto discorsivo Molto diciamo Anche un po' confusionario Non sono Ho gesticolato tantissimo Lo so Me ne rendo conto Però Vi ringrazio Se vi piace questo video Magari mettetevi Perché no Anche un like E iscrivete anche al canale Anche se Non faccio video Da una vita Anche se qualcosa Sto tentando di fare Ultimamente E niente Grazie a tutti Grazie Slow Hey Per il tuo video Scusami se Non volevo Essere troppo Intrusivo Però Insomma Spero che Questo mio video Possa essere Diciamo L'inizio di una Discussione O comunque Di un confronto Molto molto Diciamo Interessante Grazie di tutto Grazie a tutto A tutti Alla prossima Ciao 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 Ciao